nella vita imprenditoriale sicuramente ci saranno sempre dei momenti negativi e anche positivi uno dei momenti negativi non bisogna mai essere deboli perché io c'è stato un momento che sono stato debole mi sono messo nelle mani di alcuni professionisti tra parentesi professionisti ma che erano dei professionisti di truffe sono presentati in azienda chiamandoli per pianificare le mie cose ma il risultato è stato disastroso perché mi hanno precipitato nel farmi ancora più debito di quanto ne avevo loro mi hanno chiesto una parcella di 50 milioni mi sono messo nelle mani di alcuni professionisti tra parentesi professionisti ma che erano dei professionisti di truffe questo episodio ho avuto un colloquio con una grossa azienda di importazione di vini estera che mi ha aperto un grandissimo portone e si è chiusa una piccola porta questo chiaramente ci ha dato modo di poter chiaramente pagare i nostri debiti e guardare in futuro e fare altre altre cose molto più importanti